Diabetici senza cure in provincia di Sernia. L'allarme lanciato da alcuni malati. Da pianificare, altro modo per dire impossibile da prenotare, è la risposta restituita dal sistema informatico a un diabetico che voglia fissare una visita al veneziale di Sernia o presso il Santissimo Rosario di Venafro. Avevamo notizia dei tempi lunghissimi di attesa, sei mesi o più, ma ora siamo ad una situazione tra l'incredibile e l'assurdo. A segnalarci la vicenda diversi malati che, a causa di tale criticità, non riescono a sottoporsi alle pur importantissime visite di controllo. I pochi diabetologi in servizio, a quanto pare, non lavorerebbero nemmeno con continuità. Al Santissimo Rosario, ad esempio, lo specialista sarebbe assente da tempo e allora la lista di attesa per le visite è interminabile. Il medico non c'è e ci si aspetterebbe un sostituto. E invece no, come se tutto fosse normale, semplicemente non si fa nulla. Ai pazienti tocca aspettare ancora di più, a tempo indeterminato, come si vede dal tentativo di prenotazione girato alla nostra redazione. Ma i problemi per i malati non finiscono qui. Ogni diabetico, sulla base del piano terapeutico, stilato dallo specialista, ritira mensilmente presso la farmacia dell'ospedale di riferimento, a aghi strisce riattive ed altri presidi per il controllo della glicemia. Quel piano va rinnovato con cadenza annuale, sempre rivolgendosi allo specialista. Di questi tempi, come detto, in molti non riescono a farlo. Il rischio è di non poter accedere a quei presidi salvavita. Ma perché per l'inefficienza dell'ASNEM dobbiamo pagare noi malati? Lamentano i malcapitati. In realtà, un modo per risolvere ci sarebbe pure, prenotando e pagando una visita privata. Uno scenario, quello appena descritto, che compromette la effettività del diritto alla salute, sancito come fondamentale dall'articolo 32 della Costituzione. La cosa che inoltre sorprende è come questa colossale inefficienza passi nel quasi totale silenzio di chi la vive e di chi la subisce. Noi continueremo ad occuparcene. 11 11 11 12 12 13 14 14 12